mamma mia fortuna che c'è l'aria condizionata qui perché non saprei come vivere altrimenti è letteralmente un caldo che si muore anzi la regolo meglio perché sto veramente veramente crepando di caldo poi ho deciso di farvi la piastra oggi ma perché proprio oggi vabbè poverina che sarà mia amica quando arriverà sarà distrutta ah forse ehi ciao tesoro vieni vieni cavolo vieni siediti qui mamma mia vatti a dare un bacio no tranquilla anche io sono un po' messa così è caldo vero no non si respira poi vabbè noi l'idea di vederci a quest'ora ce l'andiamo anche a cercare però sì dai qui c'è l'aria condizionata sì però cavolo sei fatti fare un po' d'aria super accaldata dai ora rilassati rilassati un pochino come è andata la giornata oh mi dispiace periodo stressante lavoro cavolo dai adesso mi racconti tutto oppure no sai cosa facciamo? prima di iniziare a fare le nostre chiacchiere ti faccio un bel trattamento anticaldo ti faccio un bel trattamento anticaldo cosa dici? dai ci penso io ci pensa la tua Marti non ne preoccupare nel giro di un quarto d'ora sarai nuova 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 avrai quasi freddo ti tiro fuori un plate no no scherzo no 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 ci mancherebbe altro no ti do dai giusto qualche piccola 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 pillola di air relax anticaldo ok allora intanto ti vedo veramente veramente a terra tesoro ma prendi qualcosa qualche integratore eh si no quello sicuramente fa bene però non è proprio idealissimo per l'estate perché poi adesso parti dopo domani ecco vai al mare con ecco e no bisogna che qualcosa prendi anche perché aspetta guarda ho qui la mia spazzolina anche perché poi vabbè dai vai con lo zoppo e impari a zoppicare perché guarda qua io oggi mi sono fatta la piastra cioè ti rendi conto la tua amica è pazza pazza poi vabbè i miei capelli sono spaghetto comunque però mi sono voluta girare i ciuffi non so cosa mi hai preso sono pazza no però dai ti faccio anche una bella acconciatura qualcosa di un po' legato così respiri bene ok e io adesso sto benino perché c'è il condizionatore ma adesso te le leggo guarda qua ho tutte le mie spilline qui adesso facciamo una bella acconciatura però guarda che questi capelli non li vedo mica messi tanto bene no ma poi adesso col sole e il mare si rovinano un sacco e poi vedo che ti sei bruciata ti sei messa al sole in pausa a pranzo vero quante volte te lo devo dire che non lo devi fare o almeno lo devi fare ma ti devi proteggere no 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 guarda che qua non ci siamo sai che io sono mamma marty mamma marty no 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 adesso ti faccio vedere io una cosa pazzesca io se vuoi te li presto però non li devi finire solo per la vacanza allora guarda che cosa li conosci loro questi sono gli integratori più famosi di tutto il web ma non li hai mai visti sui social tu vivi proprio fuori dal mondo questi sono gli orsetti di bears with benefits sono degli integratori alimentari assolutamente naturali quindi non hanno robaccia all'interno sono vegani senza zucchero senza lattosio senza glutine quindi li può prendere veramente chiunque hanno dei risultati pazzeschi cioè se vuoi guardati i loro social perché sono allucinanti infatti io li ho appena comprati e la cosa più bella è che non hanno la canonica forma delle pasticche quelle terribili che non ti viene mai voglia di prenderle anche se è una cosa per la tua salute ora ti faccio vedere questi integratori sono così famosi perché sono delle caramelle commose si hai capito bene delle caramelle commose presente quelle che al cinema compro sempre io e poi mi freghi sempre ecco proprio quelle allora te li faccio vedere tutti e due io ho preso per provarli il loro best seller in assoluto che è proprio per i capelli quindi cioè fa al caso tuo questo qui si chiama amazing hair vitamin biotin e sopra c'è scritto ti prego guarda che carino just be person bellissimo e guarda la meraviglia c'è su questi integratori c'è letteralmente scritto Martina guarda qui ti prego a parte il profumo di fragola allucinante sono orsetti gommosi io non ho mai visto niente di più carino letteralmente cioè sono totalmente innamorata ne ne mangio uno anche adesso quanto sono belli ti prego anzi devo vedere quanti ne devo ne puoi prendere uno al giorno sono meravigliosi io li adoro li adoro li adoro quindi ho preso questo qua per i capelli e adesso te lo do subito perché direi che fa al caso tuo e poi visto che vedo ste gustioni ma te la sei da non ti sei dalla popola crema cioè tu ti sei messa lì all'orario di punta ho preso questo sai che io sono fissata con la bronzatura però mi piace ovviamente proteggermi ho preso una super novità anche questo però sta andando benissimo che è il Golden Goddess 10 vitamin complex e qua c'è scritto you glow girl bellissimi e questi qui sono gli orsettini con tutte le vitamine e tutti quegli ingredienti che permettono al nostro corpo di avere una bronzatura perfetta senza bruciarci chiaramente questo non vuol dire che non devi mettere la crema però birichina guarda questi che bel colore cioè mamma mia se divento del colore degli orsetti siamo a posto stupendi io sono innamorata ovviamente ti farò sapere quando li avrò provati però dai te ne do un pochino mettavo ok così mi dici poi come ti sei trovata anche tu ok dai adesso prendine uno te ne appoggio qui dai hai sete guarda ci penso io naturalmente ho qui una bella brocca piena di acqua fresca io me la tengo sempre qui in scrivania perché dovrei bere tanto perché bisogna bere tanto soprattutto con questo caldo sì sì io dai cerco di berli dovrei tre d'acqua al giorno da quanto bevi come un bicchiere se va bene ma cioè ma da quanto tempo è che non ci vediamo io e te cosa hai disimparato come si sta al mondo ma io non lo so mamma santa no 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 adesso ti faccio bere subito un bel bicchierone di acqua fresca guarda ho qui anche la mia guarda che bella sì la mia tazza tazzona gigante sì questa l'ho presa quando sono stata a Madrid bellissima l'avevo preparata è bellissima dei colori bellissimi super estivi e soprattutto l'orio villa di ghiaccio avevo già immaginato che la mia amica avrebbe avuto una gran sete quindi adesso te la riempio di acqua allora ok della cirrusco non trovi che il suono del ghiaccio sia meravigliore è bellissima vai vai bieni pure, tra l'altro adesso ti fai subito così secco un bicchiere così perché devi bere però avevo preparato se volevi anche un po' di tisane, ma cosa hai capito? le tisane fredde? quelle che vanno dentro l'acqua fredda? certo che esistono, in estate come fai altrimenti? vabbè anche io la sera magari ogni tanto mi faccio ancora la tisana però dai, guarda ne ho un pochino, allora ne ho una un po' golosa questa al cacao cocco di caramello, cioè questa proprio dolce oppure ne ho una questa è alla pesca e melone, cioè è spaziale, buonissima mi piace a tutti quelli a cui la offro, quindi penso ti potrebbe proprio piacere penso rientri nei tuoi gusti e per ultima, assolutamente non per importanza, tu lo sai benissimo limone e penserò che è la mia preferita di sempre, tu lo sai che io team limone ora aprirò le faite della vita, ma sai che per me anche il tè freddo è solo il limone, cioè la pesca ma cosa parliamo? cos'è il tè alla pesca? mamma mia rispetto, rispetto per chi beve il tè alla pesca questa è buonissima buone, buone buone pesca e melone vero? ti conosco come le mie tasche mascherina dai te la metto qui e quando hai finito il bicchiere ti faccio l'altro dai così la bevi, è buonissima fidati te anche un buon modo per magari bere un po' più di acqua si, magari non ti va l'acqua assolutamente vai bevi intanto io torno alla mia opera d'arte qua perchè ti voglio mettere un po' di forcine in questi capelli perchè cavolo poi ti voglio dare anche un po' di crema su questo ustione ma neanche in faccia te l'hai ridata è proprio già zero custioniamoci sole di agosto questa luna si mette mamma mia mi devo fare con te allora guarda mettiamo qua un pochino si ho qualche forcina ti faccio due trecce magari e le tiro dietro si allora vediamo si prendo un po' di fermagliene mi metto qua allora vieni qua girati intanto ti vado a fare una treccina così ok intanto dimmi scusami ma hai già preparato tutte le cose per andare via ma è bellissimo quel posto guarda che starete troppo bene tu però per favore girati da da tu però per favore mettiti la crema state attenti va là allora aspetta ok la pinza dietro così con questa ok ok e da questa parte di qua no io devo aspettare ancora un po' poi vado in ferie anche io finalmente perché sono veramente stanca ho proprio aspetta che prendo un'altra ho proprio voglia anche io di riposarmi un po' perché sono arrivata ok secondo me ci siamo te le ho proprio tirate su così dopo ti faccio vedere e adesso dietro te le leggo con un elastichetto eh ma scusami ma vedo adesso ma sta maglia ma è super pesante ma ci credo che crepi di caldo scusa ma no no data dai aspetta mi presto uno dei miei top se vuoi almeno dopo se usciamo respiro un po' di più dai guarda allora aspetta cavatela dai io ti aiuto aspetta perché mi rovini tutte le tre cavolo beh no non abbiamo fatto nessun danno se ti piace questo se vuoi ti posso dare te lo ricordi dai l'abbiamo comprato insieme sì è quello lilla l'altro lilla più rosa questo è strafresco bellissimo fidati sono sicura 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 che starai molto più fresca ma perché non ho visto prima scusami che riconciata così ma io non lo so guarda vai aspetta ole allarga 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 ok perfetto ok data allora direi che con l'acconciatura ci siamo però adesso cavolo vedo proprio un botto questa ustioncina qui allora in primis aspetta ti tampono un po' con un po' di acqua un po' un panno bagnato ecco vieni qua mamma mia ok allora ti do sicuramente ti metto ti metto un po' di crema allora guarda se vuoi ho proprio il topo sole e questo ti fa un botto bene sicuro questo è buonissimo l'aloe sì l'aloe vera è l'ideale per le ustioni io metto sempre quella dopo il sole dopo il mare fa benissimo altrimenti ho questa qui che è la mia crema preferitissima di Origins presente ma questa è buonissima è buonissima perché è alla caffina e all'aranza quindi ha questo agrume incredibile ma no è buonissima guarda guarda mamma mia senti che profumo pazzesca ah lo so però guarda questa magari te la presto dopo sì quando torniamo adesso meglio che ti dia un po' di topo sole perché per questa ustioncina qui altrimenti guarda che ti spelli tutto il naso prima delle ferie ce l'è che roba è no non si può quindi ti do un po' di questo subito subito allora guarda allora si un pochino dai non fare la noiosa guarda che è stra buona super fresca ti fa solo che bene però la crema mi raccomando mettila sempre dai se guarda che mi ok perfetto secondo me ci siamo quasi ti vado solamente a mettere anche un po' di questo balsamo labbra qui il mio preferito in assoluto perché vedo che anche le labbra sono super secche e disidratate non bevi per forza guarda vieni qua vicino ecco qua dai secondo me ti ho rimesso un uovo dite no dai beviamoci qualcosa adesso ora stai meglio vero bene sono felicissima ascolta vediamoci qualcosa adesso facciamo un po' di chiacchiere perfetto sì no non puoi mangiare un altro orsetto però se vuoi puoi andare in cucina a prendere qualcosa per fare merenda tanto sai la strada io intanto metto a posto questo disastro va bene dai ti aspetto qui ti aspetto dai io sto qua intanto ti aspetto ti aspetto ti aspetto ti aspetto ti aspetto Grazie a tutti.